Ecco Papa Delta Francesco, U0 a più Marco. Sì, sì benissimo Marco, grazie per tutta l'info. Eh beh sì, questo è un vecchia parata, tu lo conosci bene, oltretutto questa versione qua. Ho cambiato ancora il microfono, ora sono con un preamplificato, una sabonetta, ex banda cittadina. Dovrei arrivarsi un pochino in modo più pulisente, ecco, diciamo così. Anche perché il micrime dell'apparato al massimo è con il dinamico, logicamente spinge un pochino di meno. Ora dovrei essere sui, diciamo, ecco qua, 80-100 watt modulati. Perfetto, tu sempre che lo tengas a acoprire, dalle pochino, pochino salire. E cittalo con pochino, con una potenza bassa, por ahí, sabes? E quando tenga acoplato, e coge, entonces lo aumenta por ahí. Perfetto, ecco, 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 ecco. E' tutta una questione di propagazione. E' tutta una questione di propagazione. Per quanto riguarda il tuo segnale, Diego, 9-9,15 quasi. 9 e 10, appunto prima era 8 o 9, c'avevi un po' di QSB e insomma si è aumentato, e il segnale è pure dimostrazione, è ottimo, adesso arrivo molto meglio, perciò... Sì, Italia Università 0 Lima Golf Sierra, ero rimasto in ascolto così, perché stavo ascoltando comunque, questo non c'ho voglia di agliacchierare, buona giornata Giorgio! Sì, buona giornata anche a te! Sì, buona giornata, buona giornata! Sì, buona giornata! Sì, buona giornata! Sì, buona giornata! E 5 point, thank you very much I believe PC9, the B is your call sign Check it out on your QLC.com site All the very best, Mark And try to catch you again Bye-bye from Austria How do you look at this situation? About 700, those of the Fiat 1,000 kilometers on all cloud 3,000 feet Gas is 8,000 feet Temperature Minus G point 1,000 feet 1,000 feet 2,000 feet 1,000 feet 7,000 feet Image Tears Grazie a tutti. 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 Poggio, pointe in your direction, QSL. QSL, Amarino, well, very big point.